Tu lo puoi dire se non tu lo sai, se tu lo sai. Se tu lo sai, se tu lo sai, tu lo vuoi dire. Somma, se tu lo sai, non tu lo puoi dire, ragazzi. Ma qui stiamo scherzando, ragazzi. Ma con quale feste? Con quale feste? Con quale triferio? Con quale criterio? Dico io, ma le rotonde, la gente, ma i che fai? Che c'hanno i capi? Che c'hanno i capi le gente, ragazzi? E una serie, un'altra, è pirù, pirù. Allora, io voglio dire una cosa. Allora, ragazzi, si fa per i scherzoi, o si fa per il suo serese? se no, ragazzi, ci si fa un po' di culo, se te lo dico io, io non voglio essere i primi additti di fare o sì, di fare o sa, fa o sì, fa o sa, no, quello non te lo dico, però di una cosa te la voglio dire, la maionese di l'ampredotto la non ci va, ragazzi, la non ci va la maionese di l'ampredotto, ora voglio dire una cosa, se no mi sfavo, ragazzi, mi sfavo, ragazzi, il sugo, se non cosce seore, non è sugo, ragazzi, no, non è sugo, cosce seore, un soffrittino, la cipolla, la rosa, il soffritto, l'agli sedano, per dire che peccata, anche l'olio del bielo bono, c'è all'olio, ma poi io non voglio stare a discutere il rotonda sito, il rotonda nemetrici, il semaforo, perché secondo me, tu fa prima, anche se tutti fermi, poi magari dopo tutti, tu li prendi tempo, invece la rotonda tu giri, tu giri, non tu vai, e tu dici, ma andò è che c'avevo da andare, un me ne riorda, un me ne rammento, un lo so, te dice vai, ma da qualche parte tu ti fermerai, poi, e tu lo vedrai, cioè io lo fa per dire, lo fa per voi, lo fa per voi, lo fa per dire, di hardy la, e dice da che parte, insegnandolo, dice gandolo, ma non riportano nulla, dice castagnolo, no, non lo so, ma come fai a dire una cosa se non tu la sai, perché tu la puoi dire, perché se tu lo puoi dire, se non tu lo sai, ma tu lo sa se lo puoi dire, è inutile avere un 4k, per dire, se tu hai ancora un telefonio, ti va a flop, è un tipo, non ti ci gira, un ti ci gira, ti ci gira, ti ci ho i flop, ti ci ho le per dire, io non so, per dire, un 4k, per dire, un hard disk esterno, ho la memoria esterna, ragazzi, mettetelo nel capo, c'ho l'hard disk, ho i flop, io per dire, ora c'è questo grande ritorno dei famosi flop i disk, per dire, c'ho già una quarantina, e firme sia da meglio, perché sia da meglio, perché, perché i 4k, la inferiore, io riguarda ancora un VHS, se ci vuole un VHS, vedete, l'immagine meglio, è limpida, è un'immagine bella, cristallina, diciamo, molto superiore ai compat disk, capito, e io ho comprato la casa, ho comprato la casa a Montemagno, perché io sto a Montemagno e non voglio sapere, l'acqua a Bacarello l'è più buona.